Valter Mazzarri, allenatore del Torino, presenta così la sfida contro il Debrezen. La squadra avversaria si è già un mese e mezzo che si allena, che ha già superato un turno che valeva per loro la qualificazione per incontrare noi. La dice già a lunga, sappiamo tutti che a certi livelli la condizione fisica sui 90 minuti, la brillantezza si acquisisce dopo un periodo con tante amichevoli, con prove sempre gradualmente superiori. Gonzale Guain, nonostante la sua voglia matta di rimanere al centro del progetto Juventus, è destinata a lasciare i colori bianconeri. Del resto Paratici già l'aveva comunicato con chiarezza al fratello manager Nicolás. Il Pipita va ceduto per sistemare i conti, oltre che per un progetto di svecchiamento che porterebbe Mauro Icardi a indossare la maglia numero 9 della Juve. La novità emersa nelle ultime ore, proprio nell'ottica di una convenienza reciproca per le società, è quella di un prestito biennale con riscatto obbligato nel 2021 da parte della Roma. Il totale dell'introito per la Juventus darebbe sempre 36, ma ammortizzato su più stagioni finanziarie consentirebbe ad Agnelli di addolcire il bilancio e a pallotta di dilazionare i pagamenti. Resta sempre il solito problema, Iguain deve incassare una forte buona uscita dalla Juve prima di accordarsi con Petrarchi. La Juve aspetta l'incontro tra Dybala e Sarri per capire quale sarà il futuro del calciatore. Per il Daily Mail, il Tottenham è pronto a far forlie. Gli Spurs starebbero preparando un'offerta da ben 90 milioni di euro per strappare il talento argentino al club bianconero. Ci sarà però da battere la concorrenza di Manchester United e PSG, che sognano già di averlo a propria disposizione. Il quotidiano scrive che l'attaccante ha sofferto l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che la Juventus è pronta ad ascoltare ogni tipo di offerta e che l'eventuale coppia con Harry Kane potrebbe diventare tra le più temibili al mondo. La Lazio, nonostante tanti rumors di mercato, non ha ancora ricevuto proposte ufficiali per Milinkovic-Stavic, come ripetuto dal DS Iglitare nel ritiro di Auronso. L'interesse del Manchester United, per esempio, c'è ed è forte. Operazione possibile ad una condizione, il trasferimento di Paul Pogba al Real Madrid. Dall'Inghilterra confermano contatti con i vertici della Lazio nelle ultime ore. Le cifre sono state ipotizzate. Sarebbe in arrivo un'offerta di 75 milioni più 15 di bonus per il cartellino del serbo. Un affare da 100 milioni, comprese le commissioni riservate a Mateja Ghezman, in sua gente. Esiste una deadline fissata dalla chiusura del mercato in Premier, datata 8 agosto. Mancano due settimane. In questo lasso di tempo, Pogba dovrà prendere la strada del Real Madrid e il Manchester United bussare, attraverso proposte ufficiali e sostenute da apposita documentazione, alla porta della Lazio, a meno che non dirottino su diversi obiettivi. Grazie a tutti.